Con l'hammerless nuovo? Gran bel fucile. Ce l'hai fatta a comprarlo, eh? Un colpo di fortuna. E un affare riuscito, come al solito. Che faccia di bronzo. Vuoi sapere altro? A tua disposizione. No, niente. Trovo che potresti almeno avere l'aria un po' più sorpresa. Perché? Perché hai capito che sapevo già che te l'ha regalato mia madre. Le donne non riescono mai a stupirmi. Io ci riuscirò, vedrai. Sei una pazza. E tu un grande imbecille. No, basta, lasciami stare. Portami al ristorante, dove di solito vai con la mamma. Ne ho diritto. Io non ti obbligo a dirmi che mi ami.